Stefano Esposito è il migliore in campo, Dream Team non a 2, 2 a 2 questa semifinale di annata combattutissima, Stefano che prospettive? Io spero che Antonio Carpino ci dia una mano nella seconda partita, se no la finale sicuramente la perderà. Se ci arrivate. Non l'hai detto voi, non io. Senti, l'assenza di Livio quest'oggi ha pesato per niente. Marco, ha pesato in positivo, la settimana prossima che gli consigli di giocare? No, per niente, deve riposare per la sua caviglia, se no è sicuramente la sua annata calcistica. Ragazzi, va bene, vai, sincerisci il capitano. Andate a visitare via Cilea, ha le colze in me, sulla destra solo scarpe, poi mi dite... Un attimo solo per vedere la forma del cranio di Alessandro. Un bel ligno particolare. Va bene, avevo detto solo cazzate e moccalubo, ciao.